A un quarto d'ora dalla fine l'Inter vinceva per 2 a 0. A cinque minuti dalla fine il Cesena aveva raggiunto il pareggio. Nell'ultimo minuto Boninsegna ha dato la vittoria all'Inter con un calcio di punizione che ha fatto molto discutere. Una partita dove la cronaca prevale sulla critica. Ecco la prima rete dell'Inter al diciottesimo sul tiro dell'ottimo Oriali deviato da Cera. Oriali continuerà ad essere per tutto l'incontro l'uomo chiave del gioco interista. Ancora il mediano nerazzurro in primo piano con una veloce incursione nel cuore dell'area. Salva Boranga alla disperata. Nuovo pericolo di autorete per i romagnoli al trentaquattresimo sulla deviazione di Danova. Questa volta pone un rimedio Cera. Il Cesena tenta una reazione d'orgoglio sul finale del primo tempo ma il suo gioco non ha la sicura coordinazione di altre volte. Il collettivo non riesce ad imporre la sua manovra. Forse come dice Marchioro gli avversari ne hanno studiato a lungo gli schemi. Vieri si salva comunque con l'abituale sicurezza. In apertura del secondo tempo l'Inter raddoppia con Cesati che approfitta di uno sbandamento della difesa romagnola sul mancato intervento di Boninsegna. A un quarto d'ora dalla fine rigore per il Cesena per l'intervento di Giubertoni su De Ponti. Lo specialista dei bianconeri è Frustalupi. Finora non ne ha fallito uno e sono cinque. Su autorete ha segnato l'Inter e su autorete viene raggiunta mentre mancano cinque minuti al termine. Di testa Bertarelli per la corrente Oddi. La deviazione involontaria è di Giubertoni. Al novantesimo l'episodio decisivo in un tumulto di proteste Menicucci assegna questa punizione all'Inter. Boninsegna trova il buco nella barriera e condanna i romagnoli a una sconfitta amara.